Buongiorno al nostro ospite del martedì, buongiorno a Walter Cherubini. Buongiorno a voi, bentrovati. Abbiamo il sole oggi. Oh dai, sì sì, si sta... L'altra puntata eravamo sotto l'acqua, invece è spuntato il sole. Presidente, consulta periferia Milano, non diamolo per scontato, anche se con noi appunto tutti i martedì. Hai tenuto il conto, Walter, da quanti appuntamenti siamo arrivati più o meno? O ti ho fatto perdere il conto? No, qui credo siamo al quinto appuntamento. No, qui ma in totale? Ah, siamo a 163 puntate. 163 puntate, 163 volte che mi devo sopportare Walter Cherubini, pensa a te. E non mi hanno ancora dato l'amborgino d'oro, a lui sì, a me no, pensa. Pensa a te. È vero, ricordiamo. Farò un esposto al sindaco per questo. Un esposto? E ce ne sono che cominciano a fare esposto. Un in più in meno tu dici, Walter, no? Ma è proprio questo il tema, secondo me. Quello di più in meno perché centralmente ne arrivano talmente tanti che è come si fa a rispondere obiettivamente parlando. E quindi si risponde a seconda dell'urgenza particolare. E questo è il tema, quello proprio dell'emergenza. Invece il problema è di approcciare in maniera strutturale. Strutturale bisogna cambiare qualcosa. Eh sì. E un po' questo è uno dei grandi cavalli di battaglia appunto della consulta per infermi. È una delle battaglie proprio che portate avanti, quella di pensare, ripensare, diciamo, la città con un'idea che in realtà non è vostra. Cioè c'è sempre stata quella del decentramento ma applicata realmente. Ma direi una cosa. Noi, diciamo, abbiamo fatto un'esperienza empirica in questi 18 anni. Che uno dice, vabbè, ma che cosa avete fatto in questi 18 anni? Lasciamo perdere quello che abbiamo fatto o non abbiamo fatto. Perché noi possiamo dire, abbiamo fatto 200 incontri, abbiamo promosso più di 800 concerti ad ingresso gratuito. Così per estremizzare i concetti. E in mezzo un mucchio di altre cose. Il tema di fondo è quello di porre tutte queste cose all'attenzione cittadina. Perché sul territorio ci sono numerosissime cose e che vengono un pochettino, anzi, vengono sostanzialmente coperte da i mostri sacri di Milano. Possiamo dire il Duomo di Milano, il Teatro alla Scala, il Cenacolo. E quindi si va verso la città, diciamo così, attrattiva da un certo punto di vista. Abbiamo sperimentato invece, proprio facendo i concerti, i temi della burocrazia. Come fare o non fare un concerto. Nel momento in cui, per fare un concerto in una cascina comunale, con alcuni violini, con i giovani, per far conoscere la cittadinanza, il territorio anche agricolo milanese, ti chiedono il planometrico in tre copie, sottoscritto da un professionista. E non lo fai più. Non fai più le iniziative. Per fortuna qualcosa sta cambiando. Per fortuna almeno i PITS, queste piccole iniziative, vengono un po' incontro. Anzi, proprio queste realtà che hanno difficoltà giustamente a dover fare i planimetri, le certificazioni e tutto. vengono soltanto individuati dei luoghi. Per fortuna, però, e lo dico io, nonostante complimenti a Gaglia Romani che ha fatto questa iniziativa, ma ancora un po' poco, o meglio, giustamente i milanesi chiedono di più. Bisogna partire o da una lettura del singolo problema, e allora io cerco di rispondere a quel singolo problema. L'iniziativa delle PITS è stata sicuramente importante, perché perlomeno a chi fa determinate cose ha dato un minimo di situazioni. Il numero di richieste è altissimo ancora, cioè continuano ad arrivare tantissime richieste per i PITS. Tra parenti, soprattutto molto bella come scelta, quella di far sì che le richieste dei PITS non vadano ai vigili urbani o al centrale, ma ai municipi, finalmente, che sanno e hanno il pulso della situazione su cosa è il proprio territorio. Allora, si tratta di leggere in maniera organizzativa la città e quindi configurare uno scenario diverso, ma alla luce di che cosa? Non di una teoria estratta, di tutta una serie di pratiche che si muovono e quindi io, alla luce di una realtà che c'è, cerco di dare una risposta anche normativa organizzativa e anche cerco di cambiare questa normativa, perché se noi continuiamo a mantenere delle normative che hanno creato i problemi, è abbastanza difficile che noi risolveremo i problemi applicando quelle normative che li hanno creato. sembra un po' una tautologia, ma è esattamente questo il tema. Noi continuiamo ad approcciare problemi applicando normative che magari sono state tralaticiamente recuperate da altre situazioni, messe lì a governare un determinato processo organizzativo, che vuol dire fare iniziativa, e sì, ma non c'entra niente con l'iniziativa che voglievo fare, perché hai recuperato una regola che faceva la normativa per un altro settore. Ecco, per cui si tratta di leggere la città e leggere in maniera comune. Per questo avvieremo appunto da, riprenderemo meglio dopo il periodo del Covid, quella che abbiamo chiamato a scuola di periferie. Ecco, perché nonostante questo le iniziative vengono fatte poi appunto nella città, cioè comunque c'è chi si dà da fare e le cose le fanno, come ad esempio appunto la consulta che promuove questa scuola di periferie, no? A scuola di periferie. A scuola di periferie perché ha un sottotitolo per una città policentrica, per una Milano policentrica, perché se noi vogliamo andare verso la città policentrica, non è che possiamo andare avanti ad affermarla come petizione di principio, andiamo verso la Milano policentrica. Abbiamo capito, ma come si va verso una Milano policentrica e poi qual è la realtà che dovrebbe diventare policentrica? Per quello a scuola di periferie, perché se non si conoscono le periferie, non si conosce la bici delle periferie, non si sa come sono articolate, non si sa che c'è Assiano, non si sa che c'è Basmetto, non si sa che c'è Cavriano, ma che risposta mai vogliamo dare? Daremo sempre delle semi risposte, qualche iniziativa, qualche sperimentazione, qualche fiore all'occhiello. La sperimentazione, noi abbiamo detto che la periferia articolata è in 166 toponimi diversi, fazzoletti di terra più o meno grandi diversi, va bene, noi facciamo una sperimentazione in quartiere, diciamo, ah sì, abbiamo fatto un'iniziativa nelle periferie, sì, in uno di questi fazzoletti di terra e gli altri 165, per cui ci deve essere proprio un approccio completamente diverso, una struttura organizzativa diversa, da cui il decentramento è il cuore del tema dal punto di vista amministrativo. Insomma, le bisogna capirle, ma soprattutto studiarle a questo punto, le periferie, appunto come dice tu, Walter, periferie che sicuramente cambiano negli anni, quello che una volta era periferia non lo è più, quello che poi lo diventa, ritorna a essere appunto centrale o alcun altro, appunto quando c'erano i comuni, ogni comune aveva il suo centro e la periferia era altro, no? E, beh, c'è una canzone secondo me che racconta molto bene l'evoluzione comunque di questa città e lui è Adriano Celentano con Il ragazzo della Via Glucca. Andiamo a ascoltarla adesso alle 8.42 minuti qui su Crystal Radio, sempre all'interno di Good Morning Milano. torniamo a fra poco con Walter Cherubini. Il ragazzo della Via Glucca, Adriano Celentano, 1966, continuano a costruire case e non lasciano l'erba. Basta, non aggiungo altro, cioè, potrebbe essere stata scritta ieri questa canzone. Antesignano del non consumiamo il suolo. Non consumiamo il suolo. Poi è chiaro che gli aveva risposto anche Giorgio Gaber con una canzone della serie vabbè, ma allora io dove vado ad abitare e questo qui è un altro è un altro aspetto. Poi c'è anche come bella la città, ma come grande la città, no? Cantare a Gaber. Insomma, da alcuni autori, cantanti, sicuramente c'è, ci sono degli spunti di riflessione, ma che devono diventare l'introduzione amministrativa. Ti interrompo solo un secondo per dirti che però queste scelte musicali vengono premiate, perché appunto è arrivato un bellissimo Whatsapp che ci ringrazia al 331-78-53-555 dice un saluto a Fabio e Lorenzo, grazie per trasmettere anche i brani musicali un po' più vecchi. E quindi, diciamo vecchi, ma intramontabili. Gli Evergreen qui su Crystal Radio. Ed Evergreen e anche Walter Cherubini, perché insomma la questione la si porta avanti da un po' di anni, la si porta avanti sempre però guardando non al passato, ma anzi guardando a un futuro possibile per la nostra città e anche a dei venti che appunto ci saranno nella nostra città, giusto? Ma se ti direi perché il tema grosso è un pochettino, c'è un equivoco, le periferie si spostano, noi le periferie si spostano se associamo a periferia il tema del degrado. Allora nel momento in cui io rissano una situazione degradata posso dire lì non c'è più periferia. Questo è un contraltare che io mi accorgo che c'è periferia quando c'è degrado e quindi cioè quando i buoi sono scappati. Allora noi dobbiamo partire da una concezione urbana e cittadina, non stiamo parlando delle periferie sociali, esistenziali, mondiali, stiamo parlando di un'accezione del termine periferia che è quella delle periferie urbane cioè quando nei confini di una grande città o medio grande Milano è una metropoli ma medio grande. Allora la periferia è esattamente quella che si è costruita a Milano cento anni fa dal punto di vista amministrativo quando sono stati cancellati gli undici comuni che gestivano i relativi territori e quindi Baggio Affori Chiaravalle Milanese e gli altri seguenti e quello lì è diventata la periferia amministrativamente parlando perché tutto è stato spostato in centro cioè in piazza della Scala e da lì si è guardata la città è chiaro che c'è una città centrale e una città periferica una città periferica che però ha i suoi lati positivi perché ci sono situazioni e socialità forti e può avere i suoi lati negativi come i quartieri popolari che sono una concentrazione di fragilità è chiaro che se io metto nei quartieri popolari tutte le fragilità di questo mondo che cosa volete che nascali così la fragilità se poi ci sono anche i prepotenti è chiaro che c'è il disastro sociale allora la periferia non è che si sposta si risolve proprio in una logica di città policentrica se abbiamo un'amministrazione policentrica cioè dare attuazione a quei regolamenti a quell'idea del 68 69 che restituiva l'amministrazione alla città i municipi come sono adesso lo dicono tutti sarebbe quasi da chiudere invece magari invece dagli qualche potere in più qualche delega in più potrebbe risolvere appunto il problema dovrebbero avere la visione complessiva del loro territorio dove ci sono tantissime funzioni comunali che operano una scollegata dall'altra però Valter non credi che il problema nasca anche nel momento in cui usare la parola periferia per alcuni diventi quasi una parolaccia nel senso non c'è più le periferie ci sono i quartieri si usa questo nuovo modalità di storytelling prima dicevamo c'è nolo ma se succede qualcosa di brutto diventa via le monza cioè non è non rimane nolo le cose belle succedono a nolo le cose brutte succedono via le padova e via le monza che però è sempre comunque nolo com'è questa storia? ma perché c'è una distanza dalla realtà allora perché io posso fare l'iniziativa di nolo è un'iniziativa anche interessante cerco di combinare qualcosa di positivo ma se poi io comincio a interpretare nolo come la risposta a via padova vuol dire che non ho conoscenza di via padova a parte il fatto che via padova è lunga 5 km e quindi c'è di tutto di più da questo punto di vista qui ritorno però a quanto accaduto un po' di anni fa eravamo ancora sotto l'amministrazione del sindaco Moratti e ci fu un episodio di cronaca nera con l'uccisione di una persona in via padova e da lì si fece un'iniziativa il comune in particolare mettendo insieme tutta una serie di direzioni e di competenze proprio per cercare di affrontare via padova ecco il tema che allora noi ponemmo in un incontro diciamo propedeutico a scuola di periferia fu ma perché mettiamo insieme queste tutte queste diciamo così competenze cittadine funzioni cittadine in una maniera emergenziale perché a questo punto non lo facciamo in maniera strutturata in tutta quanta la città perché questo qui sarebbe il modo per affrontare sul nascere i problemi invece di rincorrerli la struttura organizzativa che oggi noi abbiamo sono i municipi ma i municipi che oggi abbiamo con tanto di assessori gli assessori dei municipi non sono gli assessori dei comuni limitrofi molto più piccoli come dimensione sia territoriale sia di abitanti è cambiata solamente la denominazione dopodiché gli assessori se vogliono fare qualcosa sul loro territorio addirittura se vogliono parlare con le funzioni presenti sul territorio devono andare dai rispettivi assessori direttori generali è chiaro che questa struttura organizzativa non funziona per quello a scuola di periferie uno dei punti significativi sarà sicuramente quello di una riflessione e anche un tentativo di proposta di sul decentramento e sui municipi questo però cercando di mettere insieme tutta una serie di sensibilità che ci sono sulla città abbiamo fatto dopo la pandemia una serie di incontri in vari posti di Milano e appunto abbiamo colto un'esigenza diffusa che però non riesce a trovare una sintesi cittadina e quindi anche un'interlocuzione cittadina quindi a scuola di periferie vuole proprio mettere insieme queste mettere insieme in un lavoro in uno studio ma a partire da un'esperienza in atto che qualcuno fa sul proprio territorio ma dandogli una visibilità cittadina perché se non si ha visibilità cittadina si fanno tante belle cose che però spariscono e non riescono nemmeno a essere di insegnamento al resto della città questo è il tema noi abbiamo tante cose che potrebbero essere insegnate copiate dalle altre parti delle città ma siccome per la dinamica milanese non si conoscono e quindi rimangono lette e romerte e sono tutte occasioni perse siamo quasi rate alla fine dobbiamo già chiudere hai qualche appuntamento veloce da darci hai un minuto e cinquanta brevissimamente allora abbiamo in questo percorso verso il centenario degli antichi comuni milanesi che si chiuderà formalmente con il 13-14 di dicembre abbiamo tre appuntamenti uno è oggi pomeriggio al Camp delle Gavelle che è un seminario dai borghi alla città dalla città agli studenti dopodiché abbiamo invece venerdì 10 presso la biblioteca gallaratese la presentazione del nuovo libro di Edo Bricchetti sui corpi santi storie e storie del comune che circondava Milano e invece abbiamo sabato 11 alle 15.30 presso il centro ambrosiano di solidarietà di via Marotta 8 dove ci sarà un incontro sul centenario Lambrate e gli 11 comuni diventano periferia sono questi tre appunti la risposta c'è sì gli 11 comuni 100 anni fa sono diventati periferia infatti il 14 dicembre le periferie milanesi compiranno 100 anni 100 anni buon compleanno periferie grazie mille Walter